Vediamo di intrattenerci un attimino su qualche tematica. La prima, la principale è Cercano. C'è un altro che viene in pista e ci fa svantire tutti i cioccolatini che abbiamo mangiato e che si depositano sui fianchi delle panghere. C'è un altro che viene in pista e ci fa svantire tutti i cioccolatini che hanno mangiato e che si depositano sui fianchi delle panghere. Con striscioni, cartelloni, la direzione ha funzionato e ci è stata concessa un'altra data. Ora mi premeva dire una cosa velocissimamente, qualcosa di cui tutti parlano ma che nessuno applica praticamente, nemmeno nelle grandi milonghere, perlomeno negli incontri eccetera. Quando si entra in ronda? Voi adoperate la mirada per invitarvi. Bene, non cambia nulla per quanto riguarda entrare in ronda. Quindi quando si vuole entrare in ronda bisogna fare la mirada alla coppia che sta venendo. Se la coppia risponde, il leader della coppia risponde con un cadeseo, allora si entra in ronda. Quindi sarebbe bello questa seconda metà della milonga se si provasse a farlo e si vede che c'è meno confusione e c'è una grande soddisfazione da parte di tutti. Ora abbiamo saputo che c'è qualcuno che ha smesso di lavorare ed è passato, guarda caso, in albergo perché lui in pensione ha detto che si sta male quindi ha detto io vado in albergo. Quindi vorremmo qui Moreno Piccini che è andato a nascondersi probabilmente. E facciamo la ronda che nessuno ha mai fatto, la ronda di pensione. Moreno è qua in pista. La ronda di pensione la faremo sempre alla moda di il gioco, ovvero lui è in pista, le tanghere lo inviteranno. Quando ci sarà il cambio della tanghera, la tanghera non andrà al posto, non andrà ad invitare un leader, un altro ballerino e pian piano si formerà una ronda intorno al festeggiato. Quindi è una cosa nuova, noi la facciamo sempre, nuova per chi non l'ha mai fatta. E poi come brano gli abbiamo fatto scegliere forzatamente una comparsita perché la comparsita è il brano che chiude la milonga. In questo caso chiude la parte lavorativa di Moreno e apre la parte pensionistica. L'undica. L'undica. Poi ci riparleremo più avanti se è l'undica veramente. Quindi ancora due parole, ho finito. L'undica. Grazie.